Camminare è anche un modo di vivere, una filosofia di vita, col passo giusto, al ritmo corretto, in equilibrio assoluto tra noi e ciò che ci circonda. Il cammino è l'approccio a chiunque decida di iniziare a dedicare un po' di tempo a se stesso, al proprio corpo, alla propria salute, attraverso questa pratica sportiva. L'associazione A Piede Libero di Arizzo organizza ogni settimana passeggiate culturali, camminate e percorsi trekking alla portata di tutti. Noi come associazione A Piede Libero siamo partiti con delle camminate notturne in città, libere, gratuite, aperte a tutti, poi chiaramente molto partecipate fra l'altro. Dopodiché ci siamo un pochino più specializzati anche sul discorso delle escursioni vere e proprie e degli eventi sportivi che facciamo con cadenza settimanale. Il discorso della camminata non è tanto giustamente che fa bene al fisico, fa bene alla mente, ma non ci interessa anche molto il discorso della parte sociale di queste iniziative, perché comunque è un modo come un altro per conoscere nuove persone, per fare nuove amicizie, per stare in compagnia. E le parti delle escursioni domenicali ci interessa molto per avvicinare le persone sia in ambienti naturali e anche a rispettarli. Quest'anno abbiamo deciso di provare una tecnica fra virgolette nuova, cioè quella del walking abbinata all'acqua fitness. Cosa sarebbe? Sarebbe una camminata di un'ora su terra, la camminata terrestre, ora detto così suona un po' male, ma insomma è una classica camminata a un passo abbastanza sostenuto. Dopodiché si va al palazzetto del nuoto qui di Arezzo e si fa un'ora di acqua fitness, chiaramente con istruttori abilitati. E' un'esperienza nuova e chi ha provato, sia oltre che divertimento, perché è tutto a suono di musica, insomma a ritmo uno si diverte anche, però veramente anche in settimana e il giorno dopo si sono trovati molto bene perché comunque tonifica il corpo, insomma fa sentire bene.